Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Videogame News, la rubrica video di EveryEye.it che di settimana in settimana vi tiene informati sulle principali novità del mondo videoludico. Cominciamo subito con questa edizione del lunedì parlando di Mistwalker, la software house capitanata dal talentuoso Hironobu Sakaguchi, infatti, non è stata molto più attiva dopo il rilascio di The Last Story su Wii. Il team capitanato dal papà di Final Fantasy, insomma, si è dedicato soprattutto a qualche piccolo progetto destinato a dispositivi mobile. La situazione non sembra migliorare, anche perché il sito, il dominio web della compagnia, non è stato rinnovato ed è scaduto lo scorso 18 marzo. Purtroppo da Sakaguchi-san non arrivano notizie, in quanto il suo account Twitter è sostanzialmente inattivo dal marzo dello scorso anno. Noi speriamo di potervi dare al più presto possibile notizie più confortanti e ovviamente speriamo che il team possa tornare alla grande sulla scena videoludica. Nuovi rumor arrivano per il misterioso Far Cry 4. L'ultimo capitolo della celebre saga di First Person Shooter non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma le discrezioni su quello che sarà il setting si fanno sempre più intense. Le ultime notizie, infatti, sembrano rivelare che il gioco sarà ambientato niente meno che sulle montagne dell'Himalaya, una location che rappresenta di fatto un drastico cambiamento rispetto a quella dell'ultimo capitolo e anche a quella di Far Cry 2. Fra le novità sembra essere prevista addirittura la possibilità di cavalcare elefanti, anche se non è chiaro, se sarà possibile utilizzarle come mezzo di trasporto o anche per attaccare direttamente i nemici e quindi approntare delle strategie d'attacco un po' più variegate. Il gioco in ogni caso dovrebbe essere presentato alle 3 2014, esclusivamente su Xbox One, Playstation 4 e PC. Rimanete con noi per non perdere nessun aggiornamento sul titolo Ubisoft. Aggiornamenti anche in merito alla console war fra Xbox One e Playstation 4. La piattaforma di Microsoft, infatti, ha venduto nel Regno Unito più unità rispetto al monolite Sony per ben 4 settimane di fila. Il merito è sicuramente da ricondurre al piccolo abbassamento di prezzo di circa 30 sterline, ma anche alla recente uscita di Titanfall, che ha molto influito sulle vendite della console. Tuttavia le vendite complessive restano ancora a favore di Playstation 4, che riceverà una spinta nelle prossime settimane non solo grazie all'arrivo nei negozi di nuove scorte, ma anche grazie all'uscita di una delle esclusive più attese per la console Sony, ovvero Infamous Second Sony. Koji Igarashi, ex producer della serie Castlevania, ha da poco lasciato Konami per fondare una propria compagnia. Lo sviluppatore ha partecipato alla Game Developers Conference di San Francisco, che si è conclusa di recente, e in alcune interviste ha dichiarato che gli piacerebbe molto partecipare allo sviluppo di un capitolo inedito di Metroid. Ovviamente una scelta di questo tipo spetta a Nintendo, che attualmente detiene il possesso del brand. Noi però siamo convinti che il producer potrebbe fare un buon lavoro anche con un'altra delle saghe che da sempre ha rappresentato uno dei baluardi degli action-adventure insieme al già citato Castlevania. Speriamo dunque che qualcosa si smuova e che magari arrivi un nuovo Metroid sulle console Nintendo. Buone nuove anche per Project Spark. Del titolo in arrivo su PC e Xbox One vi avevamo già parlato in un'altra puntata di questo nostro TG, dipingendovi un prodotto dalle ottime qualità ma funestato un attimo dal business model che Microsoft ha deciso di adottare. Il gioco è infatti un free-to-play ma i contenuti vanno acquistati a pagamento e c'è inoltre un limite di tempo per poter esplorare le migliori creazioni della community. Fortunatamente, ascoltando i numerosi feedback dei giocatori, il team di sviluppo ha deciso di rimuovere completamente lo Spark Time, ovvero il limite di 30 minuti per giocare alle migliori creazioni degli altri utenti. Si tratta senza dubbio di un'ottima notizia che dimostra quanto ormai il parere dei consumatori sia importante per i team di sviluppo e per la direzione che lo sviluppo videoludico deve prendere. Speriamo che adesso Microsoft riveda anche al ribasso le politiche di prezzo sui contenuti aggiuntivi che al momento hanno costi decisamente proibitivi. Chiudiamo la rubrica di oggi con le nostre consuete top e flop news. Il top di questo inizio settimana non può che andare ad Assassin's Creed. È stato infatti annunciato il nuovo capitolo e si chiamerà Unity. Questo nuovo episodio sarà il primo ad essere sviluppato esclusivamente per personal computer e console di nuova generazione ed in base alle parole della casa francese dovrebbe avere un comparto grafico davvero eccezionale. Noi aspettiamo di vederlo ovviamente alle tre però vi diciamo già che il gioco sarà ambientato nella città di Parigi alle porte della rivoluzione francese e che i giocatori potranno vestire i panni di un nuovo e misterioso assassino. Nuove indiscrezioni arriveranno probabilmente già prima della fiera di Los Angeles quindi restate con noi per tutte le novità su Assassin's Creed Unity. La flop news di questa settimana non può che andare ad Activision. La compagnia infatti ha annunciato ufficialmente la chiusura di un team di sviluppo della propria scuderia. Si tratta di The Blast Fourneis, autrice del discreto Call of Duty Strike Team dedicato ai dispositivi mobile. Sono ben 47 le persone che perderanno il posto di lavoro entro fine mese anche se il publisher cercherà di indirizzare alcuni dipendenti presso altre occupazioni. Activision stessa inoltre aveva promesso di cercare soluzioni alternative alla chiusura del team fra cui la vendita a società esterna. Anche se purtroppo nessuna di queste proposte ha avuto successo. Noi ovviamente facciamo i migliori auguri agli sviluppatori coinvolti nel licenziamento perché possano trovare un posto di lavoro all'interno di questa industria. Con questo chiudiamo la nostra puntata del lunedì di Video Game News. Come sempre noi vi ringraziamo per averci seguito. Lasciate un like se questo TG videoludico vi soddisfa e ovviamente lo spazio dei commenti è a vostra disposizione per ogni suggerimento. Ancora un saluto e buona settimana con EveryEye.it. Ciao!